Ciao a tutti da Salutatore, grandissima sorpresa! Ho qui con me sempre con grande emozione la straordinaria, bellissima, Viola Valentino, tu sei fantastica! Dopo una giornata come quella di oggi sono splendida, comunque sono una salutatrice, vi saluto anche io! Grazie! Saluto tutte le persone che mi vogliono bene! E sono tantissimi, siamo tantissimi, direttamente da Leolo Beach qui a Latina e io ho una sorpresa per te che da tanto che te la devo dare che te la meriti, la manina del Salutatore! Oh eccola qua! Ecco qui! Ciao a tutti i fan! Ciao, un bacio! Grazie! Ciao! Sei stupenda! Grazie e buon Fragos a tutti! Ciao! Grande Viola Valentino! Ciao!